Musica Una legge per la tutela dei riders, la prima del genere in Italia, l'ha approvata nella sua ultima seduta qui a Firenze il Consiglio regionale. Prevede garanzie nuove per la sicurezza, per la formazione e per la dotazione di chi lavora per le piattaforme digitali. Intanto il Consiglio regionale cancella l'emendamento definito pro concedie, quello sulle autorizzazioni per la depurazione delle acque, quello finito insomma nelle polemiche dopo l'inchiesta dei giudici. Lo fa con la legge 40 approvata da tutti in commissione e poi anche in aula dopo un dibattito comunque aspro e teso. Ai raggi X l'attività della garante per l'infanzia e l'adolescenza e il giudizio della maggioranza dei consiglieri è positivo anche in un anno, il 2020, segnato naturalmente dalla pandemia. Rasta in primo piano il tema dei vaccini, si è riunita ancora una volta la commissione speciale ma non è stato eletto l'ufficio di presidenza. Intanto la campagna vaccinale va avanti e si abbassa l'età dei toscani che hanno già avuto la prima dose. Un fitto programma di iniziative del Consiglio regionale per parlare della Costituzione nei giorni della Festa della Repubblica e un supporto, questo, cartaceo e digitale, per tutti gli studenti che sosterranno l'esame di maturità. La Toscana dunque adesso ha la sua legge, la prima nel nostro paese, per la sicurezza di chi lavora per le piattaforme digitali quando l'ufficio è la strada e il datore di lavoro, diciamo così, è un algoritmo. L'hanno votata 24 consiglieri, 7 si sono astenuti ma certamente sugli obiettivi sono tutti d'accordo, dare garanzie a chi lavora per le piattaforme digitali. Aveva chiesta in maniera particolare questa legge il Presidente dell'Assemblea, Antonio Mazzeo. Noi troppo spesso diamo per scontato e tante cose, in realtà questa oggi è una legge di grande dignità e un passo avanti, non so quanto grande o quanto piccolo, ma è un passo avanti rispetto alla tutela del lavoro. Chi si impegna nelle istituzioni dovrebbe porla sempre al primo posto. Ora su questo lavoreremo insieme alla Giunta per dare attuazione, per dare risposte concrete e mi piacerebbe che questa legge potesse diventare un modello non solo in Toscana ma in tutte le altre regioni d'Italia, perché ogni lavoratore che lavori in Toscana o lavori in un'altra regione deve avere gli stessi diritti. La norma prevede la redazione di un documento tecnico di valutazione dei rischi che la Giunta approva come base per impostare la tutela necessaria. Tra queste tutele anche la formazione obbligatoria, la fornitura di dispositivi di sicurezza e abbigliamento idoneo. Il consenso è trasversale dalla maggioranza e da gran parte dell'opposizione. Noi con questa legge operiamo nell'ambito della nostra competenza in materia di tutela e sicurezza sul lavoro e di salute pubblica nel momento in cui il lavoro si svolge in luogo pubblico o aperto al pubblico. La normativa e l'impianto delle norme sulla sicurezza sul luogo di lavoro si applicano ai lavoratori delle piattaforme digitali, sia che questi lavoratori siano inquadrati come autonomi o come dipendenti. Quindi è in questo quadro che noi interveniamo con questa norma che prevede che si elabori un documento tecnico, che vada ad analizzare quali sono i rischi specifici di questo lavoro, individui come si fa a prevenirli, quali sono gli strumenti di sicurezza sul lavoro che devono essere forniti a questi lavoratori, qual è il livello di formazione che deve essere fatto, qual è il livello di tutela sanitaria e prevede altresì che si favorisca la realizzazione, la nomina, l'istituzione dei responsabili dei lavoratori sulla sicurezza. Io penso che sia un passaggio importante che oggi ha fatto il Consiglio regionale, io purtroppo non ero presente perché mi sto ancora rimettendo dall'incidente stradale che ho avuto nelle settimane scorse, è un passaggio importante perché comunque si va a mettere delle norme e soprattutto a costruire delle garanzie e delle tutele nei confronti di una platea di lavoratori molto spesso giovani che sono altrimenti senza nessun tipo di garanzia e che si muovono in un ambito assolutamente deregolamentato. Io penso che sia opportuno che le istituzioni si occupino anche di questi ambiti perché troppo spesso quando parliamo di lavoro ci limitiamo a quelli che sono le categorie più garantite, i lavoratori a tempo determinato che lavorano in un posto sicuro. Ci sono invece delle forme di lavoro nuove come appunto quelle dei riders che sono senza regole, senza garanzie, dei quali nessuno si occupa. Prendono un po' le distanze in verità su alcune parti della normativa i consiglieri della Lega. Andrea Ulmi è anche il vicepresidente della Commissione Sanità, quella dove si è discusso a lungo prima dell'approvazione il provvedimento. Siamo astenuti non perché non riteniamo giusta la legge ma perché ovviamente le tutele per i lavoratori devono essere di pari grado sia per i lavoratori subordinati che per i lavoratori autonomi. Ma questa legge mi sembra che sia distante dalle istanze della gente comune, cioè aggrava soltanto una situazione di orpelli burocratici dove a un certo momento si chiede il responsabile della sicurezza dei lavoratori per una categoria di persone che fa della flessibilità uno dei motivi per cui questa piattaforma digitale dovrebbe essere attivata. Votano sì convintamente i consiglieri del Movimento 5 Stelle. Ecco perché e come rilanciano in qualche modo la palla anche all'azione del Governo. Le sfide che dobbiamo affrontare non soltanto per la pandemia ma anche per un modo di lavorare diverso sono molte. Il Governo nazionale è giusto che intervenga per creare omogenità ma ben venga laddove ci sono delle buone proposte che anche le regioni si attivino in tal senso. Da questo punto di vista con la Ministra Annunzia Catalfo sono stati gettati i semi per molti di questi progressi che devono essere fatti nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro e soprattutto della tutela della dignità di tutti i lavoratori. Sta questo Governo adesso riuscire a portarli avanti. Molto soddisfatto è il capogruppo di Italia Viva per il quale senza dubbio si tratta di un grande passo in avanti. Abbiamo votato a favore, abbiamo condiviso l'impianto della legge perché riteniamo opportuno dare nuovi diritti istituire dei principi che possano dare un'opportunità di tutela e di garanzia a delle persone che ovviamente lavorano che hanno delle opportunità a saltuare di lavoro ma in quella opportunità ci possa essere la tutela della loro vita soprattutto in un momento come questo dove molte volte si riscontrano anche dei morti sul lavoro quindi ogni norma che vanno nella direzione di tutelare i diritti e soprattutto le garanzie delle persone che lavorano a mio avviso deve essere colta in termini molto positivi e una legge innovativa che mi auguro possa essere apripista a livello nazionale. L'emendamento Proconcerie come l'ha definito qualcuno adesso non c'è più è stato abrogato dalla legge 40 che il Consiglio regionale ha approvato in questi giorni quell'emendamento era stato votato esattamente un anno fa il 26 maggio 2020 poi però non era mai entrato in vigore Infatti il Governo l'aveva subito impugnato e tra qualche settimana ci sarebbe stata una decisione definitiva sulla sua legittimità formale Io ho preso l'iniziativa durante il Consiglio regionale in cui discutemmo delle vicende del settore conciario di tagliare la testa al toro e con un provvedimento di legge abrogare quell'emendamento discusso Questo rende la posizione della Regione Toscana molto chiara, molto trasparente, molto aderente a quelle che sono le normative nazionali in materia di rilascio di autorizzazione ambientale sui depuratori e al di là delle dichiarazioni di voto, delle opinioni, dei discorsi, delle interviste il Consiglio regionale, la mia proposta, l'ha approvata all'unanimità e quindi ritengo di aver operato per il meglio nell'immagine che a questo punto la Regione Toscana può avere anche nei confronti di quello che è il profilo interpretativo in questa materia così delicata ma su cui dobbiamo essere così rigorosi come è la tutela dell'ambiente La questione ora è riemersa dopo l'inchiesta della Magistratura sulle infiltrazioni mafiose in Toscana e sugli scarti della lavorazione conciaria Tuttavia la ricostruzione di quel che avvenne secondo le opposizioni non è ancora chiara e crea evidenti tensioni anche tra la vecchia e la nuova giunta tra il vecchio e il nuovo Consiglio Il capogruppo del PD allora era assessore ai trasporti Quando era stato posto il quesito è stato detto di no e questo da parte della giunta che mai discusse di questa modifica normativa perché semplicemente si era fermata all'approfondimento tecnico negativo Successivamente il Consiglio attraverso un emendamento forse anche per un tentativo di semplificazione ha approvato quell'emendamento nel momento in cui cioè è emerso che quell'emendamento potrebbe mettere a rischio Invece la tenuta dell'impianto normativo che in Toscana lo ripeto consente impianti misti quindi impianti in grado di trattare contemporaneamente e in maniera positiva sia i reflui industriali che quelli civili anche a seguito dell'inchiesta Se la magistratura è corretta e giusto che faccia la sua parte che faccia i suoi approfondimenti che metta le sue sentenze noi ne abbiamo il massimo rispetto siamo intervenuti per togliere anche questo rischio Ma ora con la legge appena approvata cosa succede? Cosa cambia? Lo chiediamo all'attuale Presidente della Commissione Ambiente Dal punto di vista pratico nulla Nel senso che poi l'emendamento come è ben noto non è stato mai quanto previsto l'emendamento non è stato mai applicato dai tecnici quindi non cambia dal punto di vista del regime autorizzatorio che è sempre stato richiesto alle aziende che continuerà a essere richiesto e nei prossimi anni 2023 comunque finirà questo sistema delle proroghe tutti gli impianti così come adesso saranno sottoposti ai regimi autorizzatori che di volta in volta sono necessari per le attività che vengono espanse, aperte, implementate o quant'altro Il confronto si svolge a cavallo tra martedì e mercoledì sono soprattutto i consiglieri di opposizione di Lega e Fratelli d'Italia a far sentire la propria voce alla luce poi delle ultime dichiarazioni anche in tv dell'ex Presidente Rossi Questa legge poteva essere portata all'inizio della legislatura perché che l'emendamento non era legittimo e che quella legge è stata impugnata per quell'emendamento si sapeva fin dall'estate scorsa Chi si deve dimettere adesso secondo lei? Intanto noi auspichiamo e ringraziamo la magistratura per aver portato all'attenzione questa problematica io credo che tutti i consiglieri che non mettono al primo posto il bene dei cittadini la salute dei cittadini e del territorio ma mettono al primo posto se stessi portando avanti e piegandosi magari anche a logiche che sono inaccettabili per chi ricopre un ruolo istituzionale come questo forse dovrebbero pensare di fare altro nella vita La maggioranza ha tentato di sminuire quello che è successo perché l'emendamento che è stato presentato lo scorso anno era un emendamento molto tecnico che si inseriva all'interno di una discussione avviata da anni Rossi e l'ex Assessore Fratoni hanno rivendicato di aver sempre detto di nuovo a Conciatori in realtà di noi gliel'ha detto l'ARPAT perché nel passaggio di competenze fra provincia e regione ARPAT verificò che Acquarno stava già scaricando oltre i limiti di legge e per questo impose sia la via sia soprattutto l'AIA cioè l'autorizzazione integrata ambientale dopo quella decisione nel 2017 nel 2018 arriva una proposta di legge estruita per facilitare nuovamente gli scarichi e diminuire i controlli non abbiamo mai capito perché l'abbiamo chiesto la risposta non c'è stata resta il fatto che anche in quell'occasione gli uffici dell'ambiente dissero che non era un'operazione corretta quell'operazione è stata ripetuta nuovamente nel 2020 con il famoso emendamento a firma di Pieroni e di altri ma fortunatamente sempre per l'opposizione degli uffici dell'ambiente della regione toscana quella norma ha avuto un parzialissimo effetto ovvero sia le aziende le avevano richieste ma gli uffici hanno detto di no ed è nato un contenzioso amministrativo intanto dopo l'insediamento si è riunita la commissione d'inchiesta del Consiglio regionale presieduta da Elena Meini della Lega ecco le nostre immagini della seduta nella quale si è fatta una prima ipotesi di lavoro per queste settimane certamente ci saranno dei sopralluoghi e prima ancora delle audizioni una in particolare la chiede il portavoce dell'opposizione ho chiesto che il presidente della commissione d'inchiesta appena nominata la consigliera Elena Meini audisca per primo proprio l'ex presidente Rossi perché ci venga a spiegare le motivazioni della razio politica perché noi non vogliamo entrare nel merito dell'inchiesta ma vogliamo capire politicamente qual era la razio di quell'emendamento poi sarà la magistratura a dire se quell'emendamento l'ha scritto Pieroni l'ha scritto un privato l'ha scritto l'Andrangheta ma noi vogliamo capire politicamente qual era la razio di quell'emendamento non aggiunge altro su questo il capogruppo d'Italia Viva rispetto ai giorni precedenti non c'è invece il consigliere Stella di Forza Italia che quando per la prima volta questo tema fu discusso in aula rilasciò questa dichiarazione come Forza Italia abbiamo sempre sostenuto che fino al terzo grado di giudizio si è tutti innocenti non è perché cambia il colore politico di un indagato perché cambia il nome, cambia la nostra idea la coerenza è quella che ci appartiene e ci apparterrà fino in fondo per questo motivo abbiamo ribadito alcuni concetti il primo è che si è tutti innocenti fino a che non si dimostra il contrario il secondo elemento è che con grande chiarezza vogliamo capire quello che è successo in Regione Toscana vedete i report che ci sono stati negli anni a partire da quello della Fondazione Caponnetto ci mettono un campanello d'allarme noi vogliamo estrema chiarezza vogliamo far luce vogliamo capire quello che è successo con la tutela da un lato di un territorio importante di un distretto fondamentale per l'economia del nostro territorio che vale 2,8 miliardi il 15% del PIL Toscano 6.000 addetti e centinaia di imprese nel distretto conciario di Santa Croce sulla cui correttezza non vi debbono essere dubbi e se c'è qualcuno che ha sbagliato qualcuno deve essere allontanato dall'altro capire se le procedure amministrative che sono state messe in campo dalla Regione Toscana sono state, a detta così, dell'inchiesta inquinate da infiltrazioni mafiosi la nostra panoramica sempre completa si esaurisce con l'opinione della capogruppo del Movimento 5 Stelle che ricorda avevamo messo in guardia sui rischi delle infiltrazioni mafiose in questo settore La cancellazione di questo emendamento era un atto dovuto anche di fronte a tutti i toscani che da 40 giorni stanno ancora aspettando dalla maggioranza, dal Partito Democratico locale e regionale del perché si è fatto quella che oggi l'ex governatore Enrico Rossi ha definito una sciocchezza in termini però un po' più enfatici e soprattutto ha fatto rilevare ancora una volta cosa che sarà oggetto probabilmente di un'ampia discussione ma in altra sede che sarà quella del Tribunale del perché le stesse cose che erano state proposte e bocciate nel 2018 da pareri tecnici sono state di nuovo riproposte nel 2020 con quello che a tutti gli effetti è sembrato essere uno stratagemma Le chiediamo però cosa avvenne davvero un anno fa in aula dal suo punto di vista lei ce n'era quando arrivò quell'emendamento cosa accadde davvero? Ci furono astensioni anche a quell'emendamento c'era una grandissima confusione in aula eravamo alla prima o seconda seduta di ritorno dall'emergenza e ricordo che lavoravamo in una condizione di totale caos dovuta anche alla disorganizzazione inevitabile degli uffici trovo anzi che dovrebbe avere ancora più responsabilità chi ha approfittato coscientemente di quel caos per proporre un emendamento che come dicevo prima due anni fa era stato nettamente bocciato da tutti gli uffici tecnici della regione e anche da una parte politica del PD A proposito di lotta alle mafie il Consiglio regionale all'inizio della sua seduta aveva significativamente ricordato con il silenzio anche la strage di via De Giorgofili a Firenze la notte tra il 26 e il 27 maggio del 1993 in questa occasione viene ricordato anche l'ex consigliere Nedo Poli In Consiglio ci sono anche altri argomenti che approfondiremo nella prossima puntata ne anticipiamo due in particolare uno l'approvazione a maggioranza dell'attività della garante dell'infanzia e dell'adolescenza è stato l'anno più difficile 2020 anche per i minori approfondiremo dunque l'argomento la prossima volta e parleremo anche del Parco di San Rossore con la nomina dei sette componenti del suo consiglio direttivo Si è riunita per la seconda volta anche la commissione speciale sulla campagna vaccinale ma ancora non è stato eletto l'ufficio di presidenza cosa è accaduto? sono rimaste in lizza due lize distinte una della maggioranza che proponeva sostegno a capo della commissione l'altra dell'opposizione che indicava Landi e dunque la maggioranza assoluta avrebbe potuto scegliere il nome del presidente e del suo ufficio ma non c'è stata questa maggioranza a causa delle astensioni se ne riparlerà nelle prossime settimane intanto la campagna procede e si abbassa l'età per le prenotazioni ora tocca anche ai trentenni Siamo ormai alla festa della Repubblica il consiglio regionale quest'anno regala a tutti i maturandi a tutti gli studenti che sosterranno l'esame di maturità questo libretto c'è il testo della Costituzione da un lato dall'altro c'è lo statuto della nostra regione Abbiamo voluto come ufficio di presidenza del consiglio regionale fare un dono donare a tutti i maturandi toscani il nostro statuto lo statuto della regione toscana è la nostra Costituzione proprio per festeggiare la festa della Repubblica e per mandare un messaggio il messaggio che noi mettiamo a disposizione quella è la nostra storia le nostre radici i nostri valori come piccola cassetta degli attrezzi che ogni ragazzo che terminerà la propria esperienza scolastica inizierà una fase nuova della propria vita possa portare sempre con sé Alla presentazione intervengono anche i due vicepresidenti Casucci e Scaramelli e l'assessore all'istruzione Nardini il direttore dell'ufficio scolastico spiega che gli incontri saranno in decine di scuole L'incetto prevede per l'appunto il coinvolgimento di tutte le scuole delle diverse aree territoriali della regione c'è una pianificazione delle presenze delle attività che quindi copre quasi interamente il territorio regionale prevediamo un coinvolgimento di una ottantina di istituti scolastici complessivamente Uno dei primissimi appuntamenti c'è già stato a Pisa al liceo Carducci con Mazzeo, Nardini e lo stesso Pellicchia c'era però anche la giudice della Corte Costituzionale Emanuela Navarretta Di questo e di altri incontri parleremo meglio il 4 giugno quando Regionando tornerà su Tele Granducato sempre come ogni settimana dopo il Tg della Sera del Vennodì alle 21.15 a Pisa